Sono serviti sei mesi di indagine per arrestare il responsabile del ferimento di Francesco Liotti, il 33enne, raggiunto al viso con diversi colpi di pistola lo scorso 20 agosto. La sparatoria avvenne in via Visconti. Il giovane fu inseguito da una macchina bianca dalla quale furono esplosi diversi colpi di pistola al suo indirizzo. Liotti riuscì a fuggire, ma nella fuga fu ferito di striscio al volto. Immediatamente partirono le indagini affidate alla questura di Avellino, coordinata prima dalla procura avellinese e poi successivamente il fascicolo è passato alla DDA. Gli inquirenti ritengono che l'agguato rientra in un panorama legato alla criminalità organizzata. A mandare Danilo Volzone in carcere sono state le telecamere della videosorveglianza della zona. L'occhio elettronico inquadra Volzone proprio in quella macchina bianca, ma non si sa ancora se sia stato proprio lui a premere il grilletto e perché. La procura antimafia napoletana ha inquadrato il fatto nel reato di tentato omicidio, secondo l'accusa. Infatti chi ha sparato lo ha fatto perché voleva uccidere Liotti, ma al momento i motivi non si conoscono. Volzone è già noto alle forze dell'ordine, è condannato a 15 anni per narcotraffico insieme al fratello Angelo nel 2015. Ora si trova nel carcere di Bellizzi in attesa dell'interrogatorio. Accanto al suo avvocato Gaetano Aufiero potrà fornire la sua posizione rispetto alle infamanti accuse. Naturalmente l'inchiesta non è terminata con l'arresto del 33enne. Con molta probabilità Volzone ha avuto dei complici e quindi a breve potranno esserci nuovi risvolti.